Buongiorno, uno dei problemi principali dell'epoca contemporanea è l'energia e l'identificazione di fonti di energia rinnovabili. Ebbene, potreste mai immaginare che una potenziale fonte di energia potrebbero essere i pericolosissimi buchi neri, quelle mostruose entità che fagocitano tutto quanto osa avvicinarsi all'orizzonte degli eventi. I buchi neri, si sa, sono figli delle stelle, vi ricordate? Le stelle che è terminato il proprio combustibile interno collassano soggette alla attrazione gravitazionale della propria stessa materia, collassano fino a raggiungere un valore di densità di massa elevatissimo. Ecco dunque sorgere il fantomatico buco nero. Ma le stelle, ricordiamocelo, come tutti i corpi astronomici, ruotano e allora esiste un principio, il principio di conservazione del momento angolare secondo cui la ruotazione non va via, non scompare, permane, si conserva e dunque quando la stella collassa su se stessa e diventa un buco nero, il buco nero è rotazione. Ecco allora introdotti i cosiddetti buchi neri rotanti o anche detti buchi neri di Kerr, a partire dal nome di colui il quale è stato in grado, a partire dalle equazioni, dalle complicatissime equazioni della relatività, è stato in grado di studiare tali entità. E tornando al principio di conservazione del momento angolare prima evocato, osserviamo come tale principio è molto frequente, i suoi effetti sono a noi molto familiari in natura, per esempio quando osserviamo le mirabolanti pirouette di una pattinatrice che rotia su se stessa. Osserviamo come? Quando la pattinatrice stringe le braccia al corpo la sua velocità aumenta. Ebbene sì, perché se un oggetto diminuisce le sue dimensioni a parità di massa, ebbene a causa del principio di conservazione del momento angolare risulta che la velocità di rotazione aumenta. E allora immaginate un po' quanto velocemente deve ruotare il nostro buco nero rotante. Il nostro buco nero ha una massa e dunque, secondo la relatività generale, induce, lo sappiamo, una curvatura nel tessuto spazio-temporale. Tuttavia il buco nero non è statico, è rotante, e in tale rotazione dunque induce più che una semplice curvatura, induce un vero e proprio gorgo cosmico, insomma trascina nella sua rotazione con sé lo stesso spazio-tempo. Per intenderci, il cosiddetto effetto di trascinamento riguarda anche gli altri corpi, la Terra stessa. Tuttavia in questi casi l'effetto di trascinamento è minimale, è assolutamente trascurabile, diventa invece molto intenso quando parliamo, non a caso, di buchi neri. Ora il gorgo cosmico genera un interessante effetto. Il buco nero, l'abbiamo detto, genera un'intensissima trazione gravitazionale, dunque la materia che attorno viene inesorabilmente attratta verso di esso. Tuttavia essa viene anche trascinata dall'intensissimo gorgo cosmico dello spazio-tempo. Insomma la materia attorno al buco nero, prima di precipitare in esso, orbita attorno ad esso. E orbitando attorno ad esso, girando vorticosamente assieme allo spazio-tempo, viene enormemente riscaldata. Insomma abbiamo che si forma un plasma incandescente attorno al buco nero, quello che viene chiamato disco di accrescimento. L'elevatissima temperatura di questa materia fa sì che i suoi atomi si eccitino. Fa sì insomma che abbiamo le cariche in movimento. E le cariche in movimento, si sa, producono un campo magnetico. E tale campo magnetico, pare, sia una delle cause che produce i potentissimi getti astrofisici, getti relativistici, questo flusso potentissimo di materia-energia che fuoriesce le buchi neri rotanti lungo l'asse di rotazione. Eccola allora l'immagine di un getto astrofisico, getto astrofisico del buco nero supermassiccio al centro della calassia N87, a ben 53 milioni di anni in luce, lontano. Getto relativistico che è stato definito un curioso strano raggio dritto da colui il quale per la prima volta lo ha visto e a cui è stato dato un affascinante nome, un nome tratto dal canto primordiale che descrive la creazione dell'universo hawaiano e che sa significare adornata oscura fonte di creazione infinita. La materia che costituisce il disco di accrescimento attorno al buco nero viene dunque deformata e convogliata a costituire il potentissimo getto di energia lungo l'asse di rotazione del buco nero. Se potessimo fare una foto un po' più dettagliata, come mostra questa ricostruzione del getto relativistico, ci accorgeremmo che è spiraleggiante, che insomma ha una sorta di forma a cavatappi. Perché? Ebbene perché anche l'effetto di trascinamento, la rotazione vorticosa dello spazio-tempo gioca un suo ruolo. Il ruolo esercitato dal gorgo cosmico, dalla rotazione vorticosa dello spazio-tempo, può aiutarci a dare una spiegazione seppur semplificata, molto qualitativa, del motivo per cui l'energia materia del disco di accrescimento viene deformata e poi convogliata a costituire il potentissimo oggetto astrofisico. E allora diamola questa spiegazione e per farlo ricorriamo ad un semplice esempio corrispondente a qualcosa che ci è molto familiare, la Terra, la nostra amata Terra, in rotazione. Sappiamo bene che in corrispondenza dei poli la velocità di rotazione è ben bassa rispetto alla velocità di rotazione in corrispondenza dell'equatore. Ecco, qualcosa di simile accade per il nostro buco nero. La velocità di rotazione in corrispondenza dell'equatore, in corrispondenza del disco di accrescimento, è molto molto più elevata rispetto a quella che avremmo in corrispondenza dei poli. E allora immaginiamo di essere in una navicella spaziale, nei pressi del buco nero, sempre al di fuori naturalmente dell'orizzonte degli eventi, senza precipitare nel buco nero. Ebbene qualora ci trovassimo in corrispondenza dell'equatore avremmo ben poco controllo della nostra navicella a causa dell'elevatissima effetto trascinamento cui saremmo soggetti e qualora cercassimo di muoverci verso discorbe rispetto a quello di rotazione del buco nero verremo enormemente rallentati, qualora viceversa ci muovessimo in verso concorbe a quello di rotazione del buco nero ebbene avremmo una velocità di crociera non raccomandabile. se invece ci collocassimo in corrispondenza dei poli lì dove è l'asse di rotazione allora sì che avremmo controllo della nostra navicella, allora sì che potremmo decidere se suicidarci cioè oppure perché no esplorare un nuovo mondo e cioè precipitare all'interno del buco nero oppure più pavidamente allontanarcene tornare la nostra tranquilla terra. Insomma stiamo dicendo che lungo l'asse di rotazione abbiamo una via, una strada più facile e libera da intoppi ed è quella la strada che la materia segue per dare origine al getto relativistico. Voi entrate nell'uragano dell'universo come coloro che si gettano nell'inferno e trovano il tremolo sospiro di chi sta per morire e di chi sta per nascere. Grazie e arrivederci.